Ciao a tutti, farsi ricercare da un uomo, tre consigli. Allora, in questo video voglio darti tre consigli fondamentali, tre consigli base per farti ricercare da un uomo, quindi per essere attraente per un uomo. Allora, il primo consiglio base, diciamo, che ti voglio dare, te lo darò dopo, che ti sarai iscritto al canale e che, oltre a essere inscritto al canale, puoi attivare la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. E seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Sulla pagina Instagram Massimo Taramasco trovi delle cose, secondo me, che potrebbero esserti utili per, diciamo, darti degli spunti, degli stimoli per migliorare la tua percezione delle relazioni sentimentali effettive. E poi ti ricordo che sul canale è possibile abbonarsi. Abbonandoti potrai scegliere tra tre livelli di abbonamento. Abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni seminari del vivo e abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. Ma veniamo al tema. Tre consigli per farti ricercare da un uomo. Beh, il primo consiglio fondamentale è quello che non devi chiedere. Non devi chiedere assolutamente. Se vuoi che ti ricerchi, dopo che vi stai visti una volta, comunque sei andata la cosa. Puoi anche aver sbagliato, perché magari l'hai data subito. Puoi anche aver fatto qualunque cosa. Ma l'unico modo, certo, per farti ricercare è non cercarlo tu. Non ce ne sono altri. Quello che devi fare è evitare di cercarlo, evitare di chiedere. Ricordati sempre che chi chiede è perdente. È chi sa offrire emozioni che è vincente. Ma chi chiede è perdente. Se tu chiedi sei già perdente. Non hai proprio possibilità di essere attraente verso un uomo. Per un uomo è attraente una donna che non chiede. E se tu non lo cerchi, genererai comunque dei dubbi verso di lui. Anche se gliel'hai data, non dovendogliela dare, diciamo commettendo un errore, una sera. Se tu dopo non lo cerchi e non ti fai più sentire, magari lui non ti cercherà neanche. Però dentro la sua testa è il dubbio. Forse non gli è piaciuto come ho fatto. Forse non è rimasta soddisfatta. Forse qua, forse là. Non tanto perché gli interessa che tu sia soddisfatta. Teniamo ben presente questo. Perché dobbiamo tenere presente che i maschi, da questo punto di vista, possono essere anche molto, possiamo dire, possono anche essere molto egoisti. Però vai a toccare in profondità che cosa? Vai a toccare in profondità il suo desiderio di essere maschio, il desiderio di essere una persona virile. E quindi se vai, tra virgolette, a offendere un po' quella che è la loro virilità, vai a offendere un po' quello che è il loro modo di essere, insomma, vai a colpirlo. Vai a colpirlo abbastanza nel segno, beh, questa situazione fa sì che diverrà la voglia di ricercarti, se non altro per accertamento. Perché devi tenere presente questo, che quando una persona ha un tarlo nella testa, quando ha questo tarlo nella testa, non se lo toglie più. E allora il tarlo diventa qualcosa di cui non può più fare meno, diventa necessariamente qualcosa di cui andare ad accertarsi. Per cui è molto probabile che ti cerchi, è molto probabile che ti ricerchi. Il secondo modo è, diciamo, per farti ricercare, è utilizzare la comunicazione non verbale. Soprattutto quando l'hai visto, la comunicazione è paraverbale, cioè andare a stimolargli delle emozioni. Andarli, per farti ricercare, devi sempre farlo nel momento in cui, presente, in cui sei assieme a lui, devi andare a stimolare delle frequenze. E una di queste stimolazioni puoi farlo attraverso la voce. Non sembra, ma la voce, il timbro di voce, il suono di voce, può generare delle frequenze, delle vibrazioni molto, molto forti in un uomo. Può generare, diciamo, delle vibrazioni che possono veramente coinvolgere, anche coinvolgere a livello molto profondo un uomo. Con coinvolgerlo, diciamo, in modo molto, molto marcato. E questo cosa farà sì? Beh, farà sì che... Devi capire che tipo di voce utilizzare per dare delle emozioni. Perché sono due le tonalità fondamentali. Un tono duro, materno, cioè materno, ma la mamma cattiva che ti sgrida. E questo aggancia tantissimo gli uomini che hanno vissuto delle sgridati, sono vissute delle emozioni essendo sgridati. Tu devi provare i due toni di voce, ovviamente quando sei assieme a questa persona, e guardare su quale dei due ti dà gradimento. Ecco, quel tono di voce lì utilizzalo perché entra come un trapano, gli entra come un tarlo nella testa e inesorabilmente lo terrà legato a te. È come se gli tornasse in mente qualcosa, come se quelle emozioni gli tornasse in mente. Poi dopo sparisci, come abbiamo visto nel primo caso, no? No, il primo sparisci, ma se tu hai seminato quel timbro di voce lì che in qualche modo li repercura quelle emozioni, ottimizza ancora di più e aumenta ancora di più le possibilità che ti venga a cercare. E la terza cosa che deve verificarsi se non gli hai dato, ovviamente. Quindi ti suggerisco soprattutto le prime volte, la prima volta di non dargliela. Utilizza molto il contatto fisico, utilizza la cinestesica. Questo anche lascia un'impronta molto forte. Ripeto, vale solo questa terza situazione se tu non gliel'hai data. Ad esempio, attraverso, che ne so, mentre parli, gli poni una mano sulla gamba, parli in questo modo, andando a ricercare il contatto fisico. Questo può generare in lui delle situazioni, degli interessi, genera sicuramente in lui una sorta di coinvolgimento. Per cui è inevitabile che paradossalmente ti verrà a cercare e cercherà di capire come mai si sono manifestate certe situazioni. E anche questo lo porterà proprio a ricercarti. Creerà un ancoraggio, questa tecnica, diciamo, crea un ancoraggio emotivo molto, molto forte che lo spingerà a volerti ricercare, che lo spingerà a desiderarti. Ecco, usa queste strategie e vedrai che qualunque uomo ti ricercherà. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonando ti potrai scegliere tra tre livelli di abbonamento. Abbonamento base con lezioni mirate. Abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni seminari dal vivo. Abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. Ciao a tutti.